Non ho mai fatto il sushi, non ho mai fatto cucina orientale. Era la prova con Chef Wiki, che ha fatto sì che io fossi il primo della classe. Allora, in questa prova avevamo tre tipi di taglio. Uno taglio sushi, quindi un filetto tagliato in lungo, uno tagliato a carpaccio e un trancio di palamita. Io ho ragionato così. Ho fatto subito il taglio del carpaccio, poi l'ho messo a marinare nella salsa di soia, negli agrumi, nello zenzero, nel pepe. La prima lavorazione è stata questa, perché il pesce doveva prendere i sapori, doveva prendere gli aromi, quindi ho lasciato riposare subito il carpaccio. Poi l'altro taglio è stato quello del sushi. Allora, ho iniziato tagliando il filettino sottile, tipo un cilindro lungo, che l'ho abbinato assieme a un mango, perché volevo dare quella dolcezza, e sopra ho messo delle fragoline. Questo è stato il pezzo di sushi. Poi il trancio, ho fatto un bel trancio rettangolare, l'ho fatto gratinato alla paprika e ho fatto una brunoise di piccole verdure, che comprendevano peperoni e zucchine, sfumate con la salsa di soia come base. Poi il carpaccio l'ho impiattato mettendo un po' di insalatina per dare un po' di freschezza, mettendo una brunoise di fragole per dare un po' di dolcezza e della supreme di limone. Il nostro canale è un po' di dolcezza.